Dal 18 settembre la salute ha una nuova casa. Fisioradi Medical Center si trasferisce nella nuova sede di Pesaro in via Lambro 15, zona Vismara. Visite mediche specialistiche, polo diagnostico, centro di fisioterapia e riabilitazione. Non mancare all'inaugurazione il 18 settembre, brinderemo anche alla tua salute. Da oltre 25 anni di esperienza, Fisioradi Medical Center.